un hotel sul lago che non è sul mare uno scrittore ucciso un lobby boy accusato ingiustamente un detective imbranato uno stampalato omicidio cercate analizzate tutti gli indizi possibili così potete risolvere il mistero stampalato di mia mare libro giallo comico scritto da samuele bianchi chiara pelucco martina pelucco in vendita su amazon